Buonasera ragazzi e benvenuti al corso di appuntamento con l'allenamento on fitness, io sono Fabrizio De Silvestro, sono un agonista della nazionale italiana IFBB Elite Pro. Oggi farò vedere un esercizio sui visibili e quindi andiamo a vedere un esercizio che attira di più un pubblico maschile. Non faremo il solito Carl in piedi con il bilanciere, manubri alternati, ma ci andremo a sdragliare, anche per terra io ho questo supporto e con un elastico con un'intensità di 25 kg attaccato alla grada di una finestra, una semplice barra di ferro, un tubo di ferro paragonabile a un bilanciere, andiamo ad eseguire delle trazioni in contrazione concentrica, non scavallando mai la testa, ma cercando di avere un range di movimento fino alla fronte per avere il focus sempre sul brachiale del bicicletta. Grazie per la visione! Allora ragazzi come avete ben visto non abbiamo uno scarico a terra con le gambe, quindi in questo modo andiamo ad isolare ancora di più il muscolo bersaglio del bicipite che abbiamo lavorato. Non mi resta che dirvi di iscrivervi al canale WKT Fitness TV, c'è anche un link per seguire e vedere tutti gli attrezzi on fitness dai elastici, manubri bilancieri e non mi resta che dirvi di vederci al prossimo esercizio. Seguiteci numerosi e mettete anche un like sul canale. Al prossimo!